Matteo Salvini tema in realtà quello che i giornali da due giorni chiamano il lodo grasso. Proviamo a vederlo con il cartello numero 3. Nessuno costringe i senatori a votare una fiducia che non potrebbero mai accordare a un governo considerato ostile. Però se tutte le esposizioni escono dall'aula di comune accordo, a quel punto vanno alla conta il Movimento 5 Stelle e la Lega. E il Movimento 5 Stelle ha il doppio dei senatori della Lega. Quindi politica a ferragosto, non so adesso, spero che ci vedano numerosi, ma auguro agli italiani di poter... Ci guardano in tanti perché la politica appassiona, soprattutto il pubblico di La Sette, a quale vogliamo offrire l'informazione la più completa e esaustiva. E' la ragione per la quale l'abbiamo invitata. Mi sono lieto per voi e per tutti noi. Anch'io sto qua se non ci verrei. Ovviamente vorrei che gli italiani potessero serenamente trascorrere in maniera più lieta questi giorni. Noi abbiamo una posizione molto lineare. Noi abbiamo votato la sfiducia a Conte fin dall'inizio. Ora uno dovrebbe spiegare al vicino d'ombrellone, non mio che adesso sto a Roma, ma di un nostro militante. Dice no, quelli sono usciti perché così si fa il duello tra quello e quell'altro. Io credo che le cose comprensibili siano migliori. Noi non abbiamo mai votato la fiducia a Conte. Quindi voteremo contro il governo Conte. Abbiamo sempre avuto l'alleanza di centrodestra. Che vede, Barenghi ha ragione, Salvini ha fatto delle affermazioni. Però noi qualche settimana fa abbiamo votato in Sardegna, nel Molise, mica cento anni fa. Le elezioni al comune di Cagliari si sono svolte il ballottaggio a giugno. Stiamo ad agosto, quindi non è che noi stiamo risalendo alla discesa in campo. Quindi noi restiamo dove siamo stati sempre. Poi la vicenda del governo giallo-verde era nata un anno e più fa. Si dice, ma anche Forza Italia lo sapeva. C'era in quel momento la consapevolezza che rivotando il 28 luglio, lei ricorderà, si era parlato anche di questo, tutta l'Italia diceva, forse chi lo sa, sarebbe stato meglio, ma a corsenno di poi si fa poco. Quindi Forza Italia è rimasta ancorata a uno schema di centrodestra dove cosa è cambiato? I numeri. Mica è poco. Poi saluti di usare questi numeri non è cambiato solo i numeri. Adesso votando contro il governo Conte si rischia di andare, e si rischia. Si va a elezioni molto pericolose per, diciamo, come dico, non lo dico io, lo leggo sui giornali, lo vedo dalle cancellerie europee, da tutto quanto. Elezioni molto pericolose per il futuro del Paese. Economia, IVA, esercizio provvisorio. Ma questo è quello che si fa. Non posso fare un maupato. Non posso fare un maupato. Allora, io capisco la coerenza della vostra posizione. Io voglio dire, oggi ho letto su un articolo, pensate un po', se va al governo Salvini e vince il centrodestra, per la prima volta, è attribuita a Renzi la frase, si elegge un presidente della Repubblica con una maggioranza di destra. Io ho vissuto in Italia con i presidenti della Repubblica, Pertini, Napolitano, tutti di sinistra, persone che non hanno, a volte si è anche discorso, i ribaltori, le robe con Napolitano, abbiamo avuto anche polemiche. Dopodiché stiamo qui liberi e vivi. Scalfaro, che era proprio un democraziano moderato, noi abbiamo avuto delle amare sorprese. Perché se viene eletto un presidente della Repubblica nel 2022 da un Parlamento a maggioranza di centrodestra, mica verrà il detto Attila, Uabba, D'Antuono, Flagello di Dio. Ma immaginate quanto sia complesso.